Aprete la unità di scanner. Aprete l'interno cover. Aprete l'handolo del cartigone usato e rilassate. Unpack il cartigone di tonner. Rilassate il cartigone protettivo. Non toccare il cartigone verde. Non esposate il cartigone di tonner al luogo per tanto tempo. Gently, rilassate il cartigone di side a side 5-6 volte per distribuire il tonner dentro del cartigone. Rilassate il cartigone all'interno del cartigone. Aprete il cartigone. Aprete la unità di scanner. Aprete la unità di scanner. Aprete il cartigone. Aprete il cartigone sul cartigone. Rilassate il cartigone. Grazie a tutti.